Dopo una dozzina di spy stories che hanno venduto più di 70 milioni di copie, lo scrittore britannico Frederick Forsyth ha confidato di voler deporre la penna su consiglio della moglie, che lo trova troppo vecchio. Ho esaurito i temi di discussione e sono stanco. Non posso semplicemente star seduto a casa e scrivere un piccolo bel romanzo nel mio studio. Devo uscire e andare in posti come Mogadiscio, Guinea-Bissau, entrambi posti terribili in modi differenti, ha rivelato l'autore del giorno dello sciacallo e i mastini della guerra. Più giovane pilota della RAF, il giornalista Forsyth era in Biafra per la BBC durante la guerra in Nigeria. I suoi romanzi sembrano dei veri reportage giornalistici e la dimensione internazionale è fondamentale. Il mio recente romanzo, La lista nera, mi ha spinto fino a Mogadiscio per una settimana e mia moglie, che è una donna franca, mi ha detto se lo rifai penserò seriamente al divorzio e non voglio che questo accada. Sul romanzo di spionaggio e fantapolitica Quarto protocollo, lo scrittore, 78 anni, ricorda. Ricordo che in Quarto protocollo è stata posta la questione di come produrre un'arma nucleare in miniatura e farla esplodere. Sono stati allora fatti alcuni cambiamenti per essere sicuri che non funzionasse, non volevamo che qualcuno lo facesse.